il quarto fallo anche per la meta Catania quindi da questo punto di vista si è tornati in parità quattro per parte i falli commessi in questo match match che tra poco concluderà il suo primo quarto di partita Giappa Giappa si gira pallone per Tiago Grippi che lo va a recuperare Giappa Igor all'indietro per Tiago Grippi Murillo Igor ancora Igor in verticale è la grande azione che si conclude con la rete di Giappa grandissima azione da parte grazie a tutti